A un certo punto l'impresa è sembrata possibile. Chieri in vantaggio sul 2-1 al Palaverde di Villorba, la fortezza delle campionesse di Conegliano che diventa espugnabile. Poi nel quarto e al tie-break le Pantere hanno la meglio. Dopo due ore e mezza di gioco una gara interminabile, incerta e bellissima. Ottima la prova di Omorui, 16 punti per questa ventunenne nata a Lodi. La Reale Mutua Fenera mantiene il quinto posto ed esce a testa altissima. Nessuno a Villorba era riuscito a strappare un punto in questa stagione. Solo Pinerolo aveva conquistato un punto contro Conegliano, ma in casa. Ieri invece la Wash4Green è uscita sconfitta seppur tra gli applausi dal derby con il Novara. Al Palaigor è finita 3-1. Migliori in campo ancora una volta vita a Chimova. Le ragazze allenate da Bernardi si confermano quarta forza del campionato. Ultima tra le piemontesi resta Cuneo che a Pesaro ha perso 3-1 contro Vallefoglia.